Prima delle intese serve fissare i livelli essenziali di prestazioni, così il presidente della regione Puglia nonché vicepresidente della conferenza delle regioni Michele Emiliano a margine dell'incontro con il ministro Roberto Calderoli. Al centro della discussione il disegno di legge realizzato dal rappresentante del di Castero degli affari regionali e dell'autonomia. Una bozza che al momento non va nella direzione auspicata, ha dichiarato ancora Emiliano. Non consente al Parlamento di incidere sulla intesa una volta che è sottoscritta. Sostanzialmente la bozza Calderoli violando la Costituzione dice che se una regione e il governo fanno un'intesa su un assetto diverso delle competenze e dei finanziamenti il Parlamento non può mettere becco. Trasporti, scuole ed energia, gli ambiti che sicuramente per il presidente della regione Puglia occorrerà escludere dalle materie oggetto di delega alle regioni. È impossibile immaginare qualunque percorso di modifica della Costituzione senza partire da una legge cornice che stabilisca attraverso un dialogo stretto con la conferenza delle regioni quali siano le materie che possono essere oggetto di intesa e quali invece debbano essere necessariamente esclusi. È escluso per esempio che alcuni gangli come la scuola o come l'energia o il trasporto possano essere oggetto di una delega alle regioni. Il rischio è quello di una babele nella quale un cittadino italiano spostandosi sul territorio nazionale trova ordinamenti giuridici e regole completamente diverse determinate dalle regioni non più dallo Stato nazionale. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Grazie. 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 Grazie.